All'1, Terese del Ronco, Mario Minopoli Junior, al 2, Top Model Par, Luigi Panico, al 3, Teodora B, Giorgio Alessandro Junior, al 4, Tempesta Daghi, Antonio Esposito, al numero 5, Trinity Di Poggio, Warner Martellini, al 6, Tanita, Edimoni, al 7, Tamara Falco, Giuseppe Pistone. Seconda fila per l'8, Trini del Circeo, Roberto Muscolini, il 9, Trilli Gear Play, Alessandro Muretti. 200 al lancio con Tanita, comunque favorita, abbondantemente sotto la pari e comunque appoggiata a quota fissa. Rinuncia l'ala Tamara Falco, macchina che lascia le concorrenti. Tempesta Daghi, leader dopo pochissime battute nei confronti del numero 5 di Trinity Di Poggio, che rimane comunque all'esterno, terza corsia per Tanita che cerca ora la progressione, magari per provare lo sfondamento, si fa tutta la piegata in terza ruota, si completa il primo quarto di gara con l'attacco di Trinity Di Poggio che cerca di passare, dato la rottura per Tanita che finisce a tabellone. E allora Tempesta Daghi che replica Trinity Di Poggio quando si va al completamento dei 600, passati in 44 e 8. E quindi ancora Tempesta Daghi al comando, Trinity Di Poggio all'esterno, in corda a Therese del Ronco, la seconda pariglia per Trinity del Circeo, il paletto di metà gara che va via in 1-1-3 con Tempesta Daghi che è ancora in controllo. Ora c'è la progressione di Trilliger Play dal fondo del gruppo che provoca accelerazione anche alla testa della corsa. Il gruppo è molto raccolto al chilometro che è passato in 1-17 scarsi, con Trilliger Play che attacca a fondo Tanita, scusate Tempesta Daghi che prova a difendersi. Per linee esterne anche Tamara Falco che ora va su Trilliger Play che sembra aver liquidato Tempesta Daghi, Tempesta che ora retrocede e Trilliger Play che deve fare i conti con Tamara Falco all'ingresso in addirittura del rivo. C'è Teresa del Ronco che si fa vedere per linee interne con Trilliger Play all'interno, Tamara Falco all'esterno che prova ad attaccare, reagisce Trilliger Play per linee interno, si scopre Teresa del Ronco che ora va per linee esterne, ma è Trilliger Play che nel finale viene a concludere nei confronti di Tamara Falco e Teresa del Ronco. arrivo molto serrato alla fine la spuntata comunque Trilliger Play con Alessandro Muretti che sembrava in difficoltà a metà retta ma ha reagito su Tamara Falco che una volta passata ha un po' affiolito lo spunto e così Trilliger Play è rientrata ed è venuta a concludere due minuti e otto decimi il tempo totale siamo nell'ordine dell'uno quindici e mezzo, nove per il primo, sette per il secondo, uno per il terzo l'ordine di arrivo di questa quinta corsa.